Ha perso la vita in un tragico incidente stradale in località Ponte Barizzo, Virginia Scarfato di anni 40, originaria di Castellammare di Stabia ma residente in provincia di Avillino. Era in macchina con le sue figliolette, si stava dirigendo proprio in Cilento, ad Agropoli precisamente dove da poco tempo, tra l'altro, aveva acquistato insieme a suo marito una villetta. Avrebbero dovuto trascorrere alcuni giorni di vacanza. All'improvviso l'auto una Nissan Qashqai è sbandata andando ad impattare contro lo spigolo di un guarda rail, le cui lamiere hanno attraversato la macchina da parte a parte entrando dal vano motore ed uscendo dal portabagagli. Illese miracolosamente le bambine di 3 e 6 anni e il marito che guidava un'altra auto. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Strazianti le immagini delle due piccole e del marito che hanno assistito alla scena, necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare tronchisi pneumatiche per tagliare le lamiere dell'auto ed estrarre il corpo della quarantenne. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Sul sinistro stradale ora indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna per capire la dinamica dell'incidente stradale.